Uno dei problemi veri del nostro tempo è come maturare un nuovo dissenso rispetto al potere che si articoli politicamente e che sfugga alla logica di un dissenso conservativo qual è quello che si disperde nei mille rivoli delle lotte orizzontali, le chiameremo così le lotte orizzontali, che ci vedono contrapposti in basso e che impediscono al basso di strutturarsi unitariamente e verticalmente contro l'alto. Ecco, il cosiddetto populismo, che è una delle categorie della neolingua dominante, di fatto serve in larga parte a negare a chi sta in basso, alle masse popolari, di strutturarsi nella consapevolezza in un ordine del discorso che unifichi il basso contro l'alto. E allora troverete, secondo queste logiche del dissenso pilotato, faccio esempi del tutto casuali, troverete il giovane precario eterosessuale che pensa che il suo nemico sia il giovane precario omosessuale e viceversa, naturalmente, e non capiscono invece che il loro nemico è il padrone omosessuale o eterosessuale che sia, e quindi avrebbero tutto l'interesse a combattere insieme il precario omosessuale e il precario eterosessuale contro lo sfruttamento capitalistico. E lo stesso discorso si può fare per mille altre categorie del dissenso conservativo, oggi in auge, uomini e donne, atei e credenti, bianchi e neri, vegani e carnivori, e così via. La logica del potere è quella che fa prosperare dissensi orizzontali, dissensi che frammentano e impediscono il costituirsi di un vero dissenso contro la civiltà dei consumi, o la civiltà del capitale, o neoliberismo, che dir si voglia. Ecco perché è così importante, sempre a giudizio di chi vi sta parlando, lavorare per organizzare un grande consenso del basso che si articoli come dissenso verso l'alto, e quindi ragionare secondo questa coppia dicotomica, questa nuova geografia dello spazio politico, se vogliamo chiamarla così, basso contro alto, sfruttati contro sfruttatori. Destra e sinistra finiscono per essere loro stesse categorie divisive del basso, a mio giudizio, in questa fase. Hanno svolto un'importante funzione nell'avventura della modernità, oggi finiscono per invece impedire il costituirsi di un fronte del basso contro l'alto. C'è una riflessione filosofico-politica su questi temi, penso soprattutto a Ernesto Laclau e al tema del populismo. Che cos'è il populismo? È sostanzialmente il tentativo di riorganizzare, di ricostituire anche a livello di narrazione, di discorso, il popolo come unità degli oppressi, facendo intrecciare fra loro richieste diverse, anche visioni che in apparenza possono risultare anche differenti e che in comune hanno questa articolazione del basso contro l'alto.